Maca però episodio in una zona periferica di Gela. Quattro cuccioli di poche settimane sono stati uccisi, abbastonati e ritrovati in una pozza di sangue da chi porta in quella zona cibo per i randaggi. Altri tre cuccioli sono stati trovati a poca distanza, terrorizzati e nascosti. Lo denuncia l'OIPA, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Per l'OIPA, quanto accaduto nelle ultime ore, è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi di gesti violenti, di intolleranza verso i randaggi che popolano le strade e le campagne della città. Per l'OIPA, la causa è da ricercare nella fallimentare politica del Comune in termini di gestione del randagismo. Nessun piano di sterilizzazione, ma solo mirabolanti somme versate annualmente ad un canile, struttura privata ad un'ora di strada da Gela che detiene oltre mille cani. I servizi quasi inesistenti forniti da una ditta gelese a cui è stato appaltato il servizio di accalappiamento o recupero animali feriti, solo diurno e attivo quattro ore al giorno, da qualche giorno è inoltre stato sospeso a causa del termine della convenzione stipulata dal Comune. Tutti i randaggi, in qualsiasi condizione si trovino, restano quindi per strada oppure sono a carico dei volontari o dei privati cittadini. La realtà gelese, sottolineano i responsabili della sezione locale dell'OIPA, è di assoluta e costante... ...nazionale umanitario... ...ottre all'intensificarsi di episodi di violenza verso i cani randaggi, persino contro cuccioli di poche settimane di vita, continuiamo a trovare intere cucciolate partorite da femmine randagge che non vengono sterilizzate dall'azienda sanitaria provinciale. A poca distanza dai cuccioli uccisi e bastonati nelle ultime ore, abbiamo trovato, sottolinea la nota, altri 12 cuccioli nati da meno di due mesi che, nonostante la denuncia di ritrovamento alla polizia locale, non verranno ricoverati in canile per la sospensione del servizio di accalappiamento. Abbiamo inoltre avvistato nelle vicinanze cinque femmine gravide, quindi la situazione diventa sempre più grave ogni giorno che passa. Non è ammissibile chiudere la nota che i Comune e ASP, enti preposti per legge ad occuparsene, se ne lavino le mani, lasciando la situazione di protezioni animali abbattersi contro i murini a vento.